L'Aquila e Teramo imbiancate dalla prima neve dell'anno senza però grandi disagi. Nel capoluogo abruzzese sono caduti per il momento 10 centimetri di neve. Le maggiori criticità si registrano nelle frazioni e nei comuni che si trovano ad un'altezza superiore, ma la situazione resta sotto controllo. Il Comune dell'Aquila si è attivato con i mezzi spazzaneve e spargisale che sono già operativi su tutto il territorio. Anche la provincia e il Comune di Teramo sono in piena allerta per le perturbazioni nevose che fino ad ora hanno solo sfiorato il teramano, ma che a fine giornata si ripresenteranno più consistenti. Il piano neve della provincia è stato già attivato con un costo complessivo di 415 mila euro spalmati su quattro mesi. Il territorio è stato suddiviso in 43 comprensori e sono state allertate 56 ditte che supporteranno le squadre dell'ente. L'amministrazione comunale di Teramo ha allestito il COC nella sede dei vigili urbani e ha fatto rete con le associazioni di volontariato specializzate nelle attività di protezione civile per poter fronteggiare possibili emergenze annunciate nelle prossime ore. Questa prima ondata di gelo e neve com'è andata? E' andata bene. Di sera siamo stati, anche il sindaco con me è venuto, abbiamo fatto un giro anche a livello frazionale. La situazione non è stata solo una piccola innevata, le temperature non sono così basse, quindi c'è la massima attenzione. Per la prossima nottata si prevede invece un abbassamento di temperatura e una nevicata sicuramente un po' più abbondante. Quindi probabilmente terremo il centro operativo comunale aperto tutta la notte, se ci sarà necessità proprio per dare risposta a situazioni di emergenza. Quante chiamate sono arrivate ieri? Solo cinque, cinque ma non gravi situazioni, uno stamattina, quindi diciamo il numero piuttosto ridotto perché comunque la situazione non era così emergenziale, anche se è giusto che noi abbiamo usato tutte le precauzioni per essere pronti a dare risposte a qualsiasi situazioni si potesse creare di emergenza. Qual è la zona che ha sofferto di più e che soffre di più generalmente? Normalmente sono le frazioni che si trovano più in alto e poi sono situazioni anche di strade che non avrebbero bisogno di manutenzione, quindi ancora di più lì e poi anche pendenze piuttosto importanti e quindi lì si possono girare situazioni di pericolo e quindi invitiamo comunque i cittadini a uscire il meno possibile e se farlo con le auto attrezzate in maniera corretta è di usare la massima cautela. Per quanto riguarda il traffico, per il momento a Teramo non esiste alcuna limitazione mentre nell'Aquilano l'ANAS ricorda il divieto di transito ai mezzi pesanti a venti massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate in caso di neve strada ghiacciata lungo alcuni tratti della statale 17 dell'Appennino abruzzese dell'Apulo Sannitico.